Musica Buon pomeriggio, prima edizione del TG Sport di Telemolise, apertura dedicata al calcio di serie D al Campobasso che nel pomeriggio di ieri ha annunciato la chiusura della trattativa con l'allenatore Raffaele Novelli che verrà presentato questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa alle ore 17 in un albergo del Capoluogo Novelli era il nome più accreditato, che circolava da giorni, più accreditato a sedere sulla panchina rosso-blu 51enne salernitano Raffaele Novelli ha un vissuto da tecnico di Lega Pro abbastanza consolidato tant'è che scorrendo la sua carriera non si rintracciano società allenate in serie D dal 2005 ad oggi il Campobasso sarebbe, anzi è, un ritorno in quarta serie Novelli è uno dei tecnici avuti da Liberti nella dorata esperienza alla salernitana ne ha fatto parte nella stagione 2006-2007 e poi un lungo peregrinare nella penisola tra Sorrento, Foggia, Manfredonia, Propatria e Barletta ultima esperienza nella Versa in Lega Pro nella stagione 2014-2015 predilige il 4-3-3 nel periodo della trattativa ha studiato la squadra del Campobasso che ha chiuso il campionato al terzo posto e ha chiesto di visionare alcuni DVD della Juniors rosso-blu da domani si inizierà a parlare anche di calciomercato quel mondo che alletta di più i tifosi sotto l'ombrellone e che stimola le curiosità estive Raffaele Novelli verrà presentato alle ore 17 in una conferenza stampa che si terrà in un albergo del capoluogo oggi parte ufficialmente una nuova era per il calcio campobassano quella targata Aniello Aliberti giunto lo scorso inverno in punta di piedi nelle vesti di consigliere esterno della società il tempo e l'opera persuasiva di alcuni degli attuali dirigenti rosso-blu hanno fatto sì che la vicenda potesse assumere dei contorni più importanti quali quelli attuali Aliberti ha rilevato il pacchetto di maggioranza del Campobasso e si prepara ad organizzare un discorso pluriennale che possa restituire la squadra rosso-blu a fasti più rilevanti di una serie di con ambizioni da playoff la fame di calcio è innata nella piazza ma stride con la realtà che si sta vivendo fatta a volte anche di mediocrità e scarso trasporto merito incondizionato a chi tre anni fa ha girato le chiavi e riacceso il motore del calcio rosso-blu che era deceduto per l'ennesima volta in pochi anni ma adesso il tifo reclama anche un salto di qualità per assistere a scenari calcistici degni di una piazza come Campobasso per fare ciò si passa attraverso la costruzione di una squadra forte questo aspetto è scontato ma anche tramite un assetto societario equilibrato forte economicamente, snello ed efficace nel pomeriggio di oggi Aliberti illustrerà strategie ed obiettivi a medio-lungo termine e presenterà pure alcuni dei soci che lo accompagneranno nell'avventura campobassana in merito non c'è nulla di ufficiale ma il sito Irpinia News riportava stamane la notizia dell'ingresso nel Campobasso di Salvatore Pugliese, uno dei quattro fratelli della famiglia che qualche anno fa deteneva il pacchetto di maggioranza dell'Avellino Calcio oggi passato in altre mani Pugliese è persona molto vicina ad Aliberti ed opera nel campo dell'edilizia con sede in Campania si aspettano conferme in proposito di certo c'è che Aliberti sarà collaborato da amici campani e non nella sua esperienza molisana ma soprattutto da esperti operatori di mercato che tenteranno di allestire un campo basso il più possibile ambizioso Novelli chiederà un gruppo razionale nella quantità non più di 24 elementi faranno parte della Rosa 16-17 il gruppo Rosso-Blu dopo una prima lunga parte di ritiro nella provincia di Ascoli dovrebbe svolgere la seconda parte dei lavori nei pressi di Avellino esattamente a Sturno, comune a 15 chilometri dal capoluogo Irpino Sturno è una sede optata da molte società di Lega Pro e anche di Serie B lì hanno lavorato il Foggia, il Cosenza, il Siene quest'anno sarà presente l'Avellino di Mimmo Toscano contestualmente anche al Campobasso quest'ultima notizia però deve ancora essere ufficializzata dalla società Rosso-Blu A Disernia mancano otto giorni per risolvere le ultime vertenze e presentare domanda di ripescaggio in Serie D il Presidente Mazzocco ai nostri microfoni Luigi Mazzocco, Presidente dell'Isernia si apre un mese importante, il mese di luglio per decidere se fare o meno la domanda di ripescaggio in Serie D com'è la situazione? La domanda di ripescaggio in Serie D è molto difficile ad oggi che poi venga fatta questo perché principalmente abbiamo avuto la liquidazione coatta delle spettanze alla scuola calcio Isernia Olympic e questo ci ha molto deluso a livello proprio morale perché mentre noi cerchiamo di fare bene per la città quindi passando sopra tante problematiche addirittura accollandoci vecchie vertenze che non sono nostre quando poi invece ci sono delle società che dovrebbero lavorare a favore dei giovani locali e poi come trovano un bottino da pizzicare lo fanno e questo è stato quello che ha fatto l'Olympic poi con un comunicato stampa più dettagliato spiegherò tutto il inter della procedura che si è innescata credo al momento che appunto la domanda di ripescaggio sia preclusa possiamo dire che il paradosso è che in questi anni di vostra gestione avete dovuto far fronte più alle vertenze che non alle spese effettive di gestione delle vostre stagioni certo, già l'anno scorso di questo periodo abbiamo fatto fronte a circa 30.000 euro di vertenze di calciatori, di allenatori e che più ne metta oggi quest'anno pensavamo che queste cose fossero finite invece spuntano ancora altre vertenze non matura lo scorso anno ma maturate quest'anno sempre relativa a vecchie gestioni quindi anche adesso siamo alla presa con un paio di allenatori, qualche calciatore e poi la ciligina che ha fatto proprio traboccare il vaso è la vertenza scuola calcio limbic di Sernia Queste situazioni economiche pendenti hanno fatto allontanare anche uno sponsor di fuori regione che aveva intenzione di investire ad Isernia No, questo no, non sono queste pendenze perché lo sponsor avrebbe coperto tutto così come era negli accordi il problema è stato la retrocessione perché loro non sono interessati a investire su una squadra che fa i campionati regionali tutto lì E quindi di conseguenza però queste vertenze hanno influito sulla non domanda di ripescaggio e quindi in serie D quali sono adesso i prossimi appuntamenti per voi dirigenza per fare un nuovo punto anche della situazione? Noi ci vediamo cioè ci sentiamo telefonicamente tutti i giorni io mi sento con i miei dirigenti poi di persona penso ci vedremo lunedì e martedì per decidere cosa effettivamente fare però a questo punto io mi sento di dire che faremo l'iscrizione al campionato di eccellenza metteremo a posto tutte le vertenze che ci sono e penso che faremo anche un bel campionato di eccellenza puntando a vincerlo e per poi ritornare in serie D Si punterà anche nella prossima stagione eventualmente sui ragazzi del posto? Ma oddio ragazzi del posto noi dobbiamo allestire una squadra competitiva saranno del posto o non del posto non ha alcuna importanza chiaro che se troviamo materiale sul territorio è la cosa che ci preme di più Calciomercato torna in Italia l'attaccante molisano originario di Rocca Vivara Mirko Antenucci dopo l'esperienza inglese con la maglia dell'Iz ieri la SPAL neopromossa in serie B che ha vinto il campionato di Lega Pro girone B e quindi tornata nella cadetteria dopo ben 23 anni di assenza ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante appunto Mirko Antenucci il Cus Molise ha instaurato diverse partnership per il calcio a 5 quella con la Wynn Campobasso che ha presentato anche domanda di ripescaggio in serie B dopo la retrocessione di qualche mese fa a proposito della squadra Antonio Di Stefano Antonio Di Stefano dunque capitano della Wynn Campobasso c'è stata questa fusione con il Cus Molise ce ne puoi parlare direttamente tu? Siamo fieri di proseguire il lavoro che avevamo già iniziato l'anno scorso quest'anno diciamo abbiamo messo nero su bianco e quindi la società come avete potuto già leggere dalla carta stampata si chiamerà Cus Molise un progetto che punta a durare negli anni e sicuramente cercheremo insomma di fare bene aspettando sempre il ripescaggio per quanto riguarda il campionato di serie B Dunque una società con la quale insomma avete vinto il campionato di C1 poi due campionati di serie B nell'ultimo c'è stata la retrocessione però c'è la prospettiva di poter essere ripescati perché oggettivamente ci sono poche squadre a livello di serie B e dunque siete già partiti anche con il calciomercato Sì, dici bene siamo partiti con la campagna acquisti abbiamo acquistato un giocatore Carioca, Renatigno e sì da parte della federazione abbiamo avuto ampie garanzie per quanto riguarda il ripescaggio che aspettiamo si formalizzi verso la metà di luglio siamo fiduciosi in questo e stiamo costruendo una squadra che possa competere e cancellare quanto prima questa retrocessione che è venuta in modo rocambolesco è stata con molta amarezza vogliamo subito insomma ripartire alla grande Un'ultima cosa si prospettano quattro squadre molisane sarebbe opportuno, vi ho spiegato, di giocare tutti insieme Sì, chiaramente farebbe piacere a me in primis che ci siano quattro squadre molisane che da tempo che non si verifica questo nel campionato di caratteria siamo felici di poter speriamo che il movimento possa crescere nuovamente anche perché a livello economico c'è un po' una flessione per quanto riguarda l'organizzazione il problema è sempre quello di organizzarci a livello economico per affrontare questi campionati che comunque comportano spese nettamente maggiori rispetto a un campionato regionale Per il calcio a 5 regionale il Circolo La Nebbia punta ad un torneo di vertice ma è attento anche al settore giovanile la notizia però principale più importante di questi giorni è l'affiliazione con la Società del Milan vediamo di cosa si tratta con Elio Perrella Elio Perrella uno dei collaboratori del Circolo La Nebbia allora prestigiosa collaborazione affiliazione con il Milan praticamente freschissima da qualche giorno avete divulgato questa notizia allora in che cosa consiste? Allora innanzitutto volevo fare i complimenti al Presidente dell'OMO che circa un anno fa partì il progetto della Scuola Calcio e Circolo Nebbia con dei presupposti di riportare un'affiliazione importante a Boiano esattamente dopo 20 anni perché l'unica volta che si registra un'affiliazione con una scuola di Serie A nel nostro paese è stata con la S Roma grazie al Borgo Molisano circa 20 anni fa da allora è il nulla e quando abbiamo gettato le basi per questa nuova scuola calcio a Circolo Nebbia ci siamo dati due obiettivi io ho scelto di cambiare proprio per questi due obiettivi principalmente per fare un'affiliazione importante obiettivo raggiunto e chissà un giorno sognare di vedere un ragazzino di Boiano che veste una maglia professionistica e quindi come hai detto da due giorni abbiamo annunciato questo progetto che già era in candiere da sei mesi in quanto fare un'affiliazione con l'AC Milan per tre anni ha obblighi e dei doveri un contratto immenso e quindi abbiamo lavorato per sei mesi a questo grande progetto Allora vi auguriamo che possa realizzarsi anche il secondo obiettivo cioè quello di vedere in palcoscenici importanti un ragazzino della Circolo La Nebbia allora ci dobbiamo aspettare degli stage dei confronti dei viaggi da Boiano a Milano e viceversa dei confronti tra dirigenti del Milan e del Circolo La Nebbia casomai anche degli incontri importanti proprio qui in Molise esattamente a Boiano con dei rappresentanti del Milan ci puoi svelare qualcosa? Sì, questo che hai detto è diciamo tutto vero diciamo solo qualcosina l'affiliazione con il Milan di tre anni abbraccia a 360 gradi la nostra società abbraccia l'ambiente genitori l'ambiente dei dirigenti, degli allenatori e quello dei ragazzi per gli allenatori avremo dei corsi da fare a Milanello, a Bismara proprio nelle sedi ufficiali del Milan di tre livelli oppure con l'ambiente genitori ci saranno delle visite dei tecnici del Milan che faranno delle sedute di allenamento con i nostri testerati e alla fine si intratteniranno con i genitori oppure come hai detto parteciperemo a degli eventi a Milanello, a Bismara o altre sedi del Milan ufficiali come ad esempio la Milan Cup e tante piccole cose che ora non vogliamo svelare solo chi farà parte del progetto ne sarà messo a conoscenza in pratica ovviamente ce le svelerete man mano che questi eventi si terranno per quanto riguarda la prossima stagione della scuola calcio circolo la nebbia e della squadra di calcio a 5 del circolo nebbia i progetti quali sono? i progetti diciamo sono divisi innanzitutto vogliamo anche annunciare il fatto che la società circolo la nebbia ha fatto l'affiliazione da qualche da una settimana circa con il boiano calcio quindi ci siamo legati alla squadra della nostra città quindi abbiamo unito i nostri colori bianco-rossi ai colori bianco-rossi del boiano 62 e correrà prettamente la Juniores per quanto riguarda la prima squadra femminile c'è il progetto ambizioso anche perché è stata quella che ha dato maggiori soddisfazioni al presidente quindi si farà una squadra non si sa ancora per fare la Serie A oppure se ripetere il campionato di Serie C1 per la squadra della C1 di Maschire di circolo nebbia il presidente sta allestendo una squadra di tutto rispetto e come abbiamo detto prima per quanto riguarda il settore giovanile con questa grande affiliazione importante di tre anni abbiamo la possibilità di crescere noi tecnici con i corsi di aggiornamento ci saranno corsi di aggiornamento per i dirigenti per i preparatori di portieri sempre a Milanello o a Vismara i nostri ragazzi saranno visionati i genitori saranno messi al corrente di tutte le strategie psicopedagogiche per i propri ragazzi quindi diciamo che abbiamo chiuso un cerchio e come diciamo tra noi tutto lo staff infatti ringrazio tutti i colori che hanno collaborato sono tantissimi non li nomino tutti quello che diciamo che non è la meta del viaggio questo ma è solo l'inizio il rival adriatico il Termoli 1920 non si iscriverà al prossimo campionato di eccellenza le pendenze a tre cifre rendono impossibile proseguire l'attività ma il calcio non sparirà come riportato nei giorni scorsi Carmine D'Angelo ha spostato il titolo sportivo del petacciato e ha effettuato il cambio di denominazione in città di Termoli il club ha diritto a partecipare al campionato di promozione ma presenterà domanda di ripescaggio in eccellenza Carmine D'Angelo è riuscito a coinvolgere in questo progetto città di Termoli diversi imprenditori locali calcio regionale dopo l'esperienza vincente con lo spinete che ha portato appunto la squadra di Matteo Varanese in eccellenza Silvio Tedeschi l'attaccante che bene ha fatto proprio con la maglia dello spinete sta valutando diverse offerte lo abbiamo ascoltato Silvio Tedeschi una grande stagione disputata nello spinete sì una grandissima stagione perché abbiamo raggiunto un obiettivo che a dicembre era quasi impensabile siamo riusciti a raggiungere la massima serie regionale quindi siamo soddisfatti abbiamo portato un po' di allegria a un paese piccolino però composto da abitanti veramente squisiti e quindi siamo contenti la stagione è ancora più soddisfacente perché come dicevamo prima dietro la telecamera la telecamera è spente Silvio lo spinete fino a dicembre era una squadra che era data insomma se non in retrocessione però nei playoff sì diciamo che a dicembre si lottava per non retrocedere però poi con con il mister Varanese con l'aiuto di Antinone con le mie prestazioni diciamo siamo riusciti a uscirne fuori e i numeri ci hanno dato ragione quindi siamo contenti e adesso siamo già proiettati la società già è proiettata per la nuova stagione vedremo cosa succederà Silvio Tedeschi invece per cosa è proiettato nella prossima stagione non lo so diciamo che per abitudine mi piace decidere verso la fine per così ho tutto il tempo di valutare l'opzione migliore per me adesso sinceramente non ci penso perché sicuramente troverò una squadra dove potrò ispirirmi e dare il mio contributo ed ora il cartellino rosso la rubrica curata dalla redazione sportiva di Telemolise e va va avanti tu che adesso c'ho da fare sarai la mia metà ma si non parti diventi in altro boll la mia tre quarti e va e va e va non puoi sapere piacere che me fa magari qualche amico te consola così tu fai la scarpa e lui te sola io te ce l'anno sola io te ce l'anno sola solo senza te per segnalarci altre situazioni simili vi invitiamo a contattarci tramite e-mail all'indirizzo di posta sport chiocciolatelemolisse.com oppure sulla pagina facebook di Domenica Sport siamo all'Atletica si svolgerà dal 6 al 10 luglio ad Amsterdam la ventitresima edizione dei campionati europei di atletica leggera tra i 75 convocati dell'Italia c'è anche Daniele Donofrio abruzzese ma tesserato con la NAI nuova atletica Isernia allenato da Luciano Di Pardo Daniele resterà testerà la propria preparazione sulla mezza maratona in programma domenica 10 luglio start previsto intorno alle ore 10 siamo al basket il globo Isernia riparte per la terza stagione in cadetteria il servizio il cinema Lumiere di Isernia ha ospitato il globo Isernia ieri il sodalizio bianco celeste ha presentato il progetto della prossima stagione a stampa tifosi e semplici curiosi il presidente Ricci e gli altri dirigenti intervenuti hanno spronato la comunità a collaborare con la società in primis riempiendo il palazzetto per la prossima stagione confermato il progetto Linea Verde dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime due stagioni entrambe con la salvezza per il globo Isernia novità alla guida del roster dopo l'addio consensuale con Ciro Cardinale la società è alla ricerca di un sostituto intavolate diverse trattative nei prossimi giorni il nome per l'allestimento del roster quasi sicuramente saranno confermati molti dei giocatori della passata stagione il campionato di Serie B 2016-2017 vedrà il globo giocare nel girone adriatico che comprende squadre provenienti da Emilia Romagna Marche Abruzzo Puglia e Basilicata se la regular season dovrebbe iniziare ad ottobre quasi sicuramente nella seconda metà di agosto il globo così come fece l'anno scorso affronterà la squadra di un college americano che darà poi il via al ritiro per il sodalizio bianco celeste non solo prima squadra ma anche settore giovanile il globo sta ottenendo ottimi risultati o anche con la squadra satellite l'Accademia Pallacanestro rampa di lancio per molti talenti del vivaio Isernina impegnati nei vari tornei regionali durante l'incontro è intervenuto anche il neosindaco Giacomo D'Apollonio che ha garantito la sua vicinanza alla squadra e alla dirigenza sottolineando più volte l'importanza che può avere una squadra che milita in Serie B oggi unica squadra molisana ricordiamo che il Benafro Basket ha presentato domanda di ripescaggio inoltre D'Apollonio ha preso l'impegno su richiesta di tanti giovani di realizzare un campo in città e di sistemare il troppo trascurato palazzetto Torneo Madonna del Carmine di Riccia ieri sera in campo le formazioni del raggruppamento C Edil Costruzioni Serena ha superato 11 a 2 Trattoria da Caporale a seguire Bar Gelateria il Giubileo ha vinto 4 a 1 contro Ideal Mobile questa sera ultima giornata di qualificazione nel girone C alle 20 e 30 SD Volturino contro Villaggio Turistico Ciocca e a seguire fuori gioco Campobasso contro Chisbar e Molise Oreca per il torneo di Fulsa al Petrella Tifernina ieri raggruppamento Ari Palimosani Castropignano è finita 6 a 3 per il girone B Paf Sanzò ha vinto 13 a 2 con Polisportiva Petrella questa sera alle ore 21 Angioletto e Frenz contro Eletro Più a seguire Autoscuola Cero contro Minni Lobibite impegnati nei vari tornei estivi gli arbitri della Libertas che si dividono tra tornei di futsal e tornei di calcio il responsabile ai nostri microfoni Salvatore Griguolo responsabile degli arbitri Libertas dunque si avvicina questa finale del torneo di Palimosani un bilancio di questo torneo da parte tua è un torneo organizzato benissimo un applauso agli organizzatori perché hanno creato il secondo torneo dietro il primo anno che è stato un grande successo quindi ripetersi non è mai facile e loro ci sono riusciti alla grande anzi secondo me hanno migliorato tantissimo Invece un bilancio da parte vostra proprio degli arbitri di cui tu fai capo Da parte nostra insomma noi speriamo sempre di scendere in campo e fare il meglio insomma sperando sempre nell'aiuto dei giocatori soprattutto ma anche da parte di una nostra buona prestazione Parlando ad Ambiolaggi invece passando all'eccellenza e promozione come sa sono cavati gli arbitri secondo te un tuo parere Bene 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 ma fare l'arbitro è difficilissimo insomma molto molto difficile quindi le aspettative capisco che da parte di segue insomma sono sempre altissime ma siamo umani possiamo sbagliare sempre anzi siamo i primi a sbagliare secondo me quindi è ancora più difficile un'ultima domanda a livello personale invece cosa ti aspetta il futuro mi aspetto che comunque i tornei mi continuino a chiamare ci continuino a chiamare come struttura arbitrale perché significa che avremmo seminato bene per poi raccogliere insomma appuntamento con il live Marzitelli domani in via Sant'Antonio Abbate omaggio a Pino Daniele con Ernesto Vito lo storico pianista di Pino Daniele che si esibirà con il molisano Simone Sala l'appuntamento alle ore 20 e 30 presso il forno pizzeria Marzitelli in via Sant'Antonio Abbate a Campobasso ultima informazione per questa edizione del TG Sport di Telemolise grazie a tutti per l'attenzione e buon pomeriggio